E' qui nella sala conferenze di Palazzo Iapoce a Campobasso che la soprintendenza e il segretariato regionale del Ministero della Cultura hanno decretato la collezione di Antonio Scasserra quale bene culturale dello Stato italiano. Oltre mille pezzi d'oro, gioielli di altissimo valore e oltre cento costumi d'epoca, abiti che raccontano la storia del Molise. Antonio Scasserra è un ricercatore di Roccamandolfi che ha dedicato la vita alla promozione e alla riqualificazione di questi costumi e a detta di tutti gli esperti la collezione di Scasserra è una delle migliori con il più alto pregio di tutte quelle italiane, tra tutte quelle italiane private e pubbliche e presto si arriverà a un museo in cui verranno esposti questi bellissimi gioielli e anche gli abiti. I costumi esistono da sempre, io non ho fatto altro che raccoglierli, studiarli e ridarli al popolo molisano. Queste non sono ricostruzioni sartoriali ma sono costumi originali che si datano tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Questo laccio, questo lungo filo d'oro portafortuna che era appuntato con una spilla a destra o a sinistra, simbolo di cuore libero o impegnato. Come diceva da Trombetta, ci troviamo nel mondo dei costumi in cui nulla è fatto a caso. Anche questi merletti sono di grandissimo valore? Sì, sono di pregio, in modo particolare questo colletto di tulle finemente ricamato a mano. Sono dei pezzi rarissimi e di eccezionale bellezza e proprio per questo hanno ottenuto questo importantissimo riconoscimento. Il costume tradizionale di Baranello che era ricco di gioielli ma non solo aveva la particolarità di avere questo grembiule detto il bancale finemente ricamato con motivi allegorici che richiamavano la bellezza, la leggiadria, la laboriosità della donna. Cosa significa questo riconoscimento? Significa che con questo atto deliberato dalla Commissione regionale del patrimonio culturale del Ministero della Cultura anche lo Stato riconosce il carattere di eccezionalità di questa collezione. Collezione che è importante, attenzione, non solo per il Molise ma io credo per l'Italia intera. Una collezione che è diventata bene culturale e che è anche un'eccellenza del Molise così come decretato dal Presidente del Consiglio regionale del Molise Salvatore Emicone che ha inteso consegnare ad Antonio Scasserra una benemerenza.